Ragazzi vi dico sempre, fate attenzione, è un periodo che è pieno di fuffaguro in giro. Ha arrestato l'immobiliarista Danilo Coppola, guardate la faccia, giacca e cravatta si presentano. E' arrestato, ok, ma per cosa? Per bancarotta, ok, per il crack del gruppo immobiliare 2004. Era scappato in Dubai e continuava a fare video proclamando la sua innocenza. Povero mondo, poveri taglioti, questo chissà quanti soldi avrà convinto a investire in immobili. Mi ricorda qualcuno, no?